Dopo oltre 500 anni, oggi, passate da poco le 9, sotto la porta del Pincio, per la prima volta una presenza umana si è aggirata nelle cavità che dovevano sicuramente essere delle strutture difensive del fossato che circondava le mura medievali di Fano. Questa mattina una squadra di speleologi provenienti da Urbino ha eseguito, come annunciato nei giorni scorsi, d'intesa con l'assessorato, i lavori pubblici e seguendo le indicazioni della soprintendenza, una ricognizione passando per il cunicolo che gli scavi della riqualificazione dell'area hanno riportato alla luce negli ampi locali collocati temporalmente, secondo una stima approssimativa dagli archeologi, nella seconda metà del Quattrocento. Giacomo Berliocchi di Fano è stato il primo a calarsi, assistito dai suoi colleghi, tutti di grande esperienza, che hanno eseguito tutto secondo precisi protocolli e metodiche di sicurezza, compreso anche una rilevazione dei gas presenti nel cunicolo. Scesi, praticamente c'è questa piccola discenderia di circa 7 metri, dove presumibilmente sotto erano scalini, da lì arrivi a una prima stanza, da questa stanza c'è un'altra galleria che collega altre due stanze, una stanza di immaginate un quadrato più o meno 3x3, dando così delle misure spannometriche, è un'altezza comoda per la mia statura, con sotto un deposito di fango. Quindi insomma, il stato di conservazione, almeno così a prima vista, come buone condizioni? Assolutamente sì, tutti i mattoni o il soffitto, perfetto. Sapevano lavorare meglio di adesso. Un'ispezione, dopo quella del robottino dell'ASED, che non ha riservato però grandi sorprese, anche se questa mattina l'emozione tra i presenti nel momento preciso in cui lo speleologo si è callato nel cunicolo fino a 7 metri di profondità era palpabile. Una luce particolare brillava negli occhi di chi ha studiato, vissuto e lavorato per riportare alla luce dal passato le testimonianze della storia e che si augura sempre che qualcosa di sensazionale possa riemergere dalle viscere della terra. Di materiale ne è stato riportato in superficie, contenenti resti di maioliche e anche frammenti ossi di origine animale, forse appartenuti ad un cavallo, e che ora dovranno essere attentamente esaminati dagli esperti.